Colpo interno per il Borgo Rosso Molfetta che batte al Paolo Poli il Biceglie con il punteggio di 3-1 bissando il successo dell'andata maturato al Ventura, Borgo Rosso bestia nera per un Biceglie apparso meno brillante del solito e che per la prima volta in questo campionato incassa a reti lontano dalle muramiche del Ventura, prima sconfitta della gestione passiatore. Eppure i primi segnali del match arrivano proprio dalla compagine nerazzurra stellata all'undicesimo Stefanini calcia da fuori centrale De Santis in presa, portiere di casa che al tredicesimo respinge la punizione dal limite di Rodriguez, Biceglie ancora pericoloso un minuto dopo Ba trova nello spazio Ducure che a 2x2 con De Santis non calcia e l'azione sfuma, occasione persa per i ragazzi di passiatore Al sedicesimo si fa vedere anche Barletta, sinistro a giro che sfiora lo specchio di porta La reazione del Borgo Rosso arriva al ventiseiesimo e si tramuta subito in gol Cross in aria di Vitale e colpo di testa di Sallustio che infila la sfera sulla sinistra di Tarogli Padronini case in vantaggio e che alla mezz'ora sfiorano il raddoppio con il colpo di testa di Contè che grazie a Tarogli mancando lo specchio di un nulla Al trentacinquesimo altra tegola per il Biceglie, Sanchez deve abbandonare il campo colpito duramente da Caputi Ammonito dall'arbitro al suo posto entra Pissinis che al trentottesimo prende bene il tempo su azione da corner Ma la sfera finisce fra le braccia di De Santis, il vantaggio del Borgo Rosso regge fino all'intervallo La ripresa si apre con il raddoppio dei padroni casa dopo meno di due minuti Biceglie che perde palla in uscita, Vitale ne approfitta e calcia in porta trovando uno splendido gol che vale il 2-0 Borgo Rosso in festa, il Biceglie prova a scuotersi e al sessantesimo ci riesce Diucure lanciato in porta da Bonicelli viene fermato, sul pallone si avventa il neo entrato Di Rito che mette la sfera in rete e accorcia le distanze 2-1 Biceglie che si rianima ma il Borgo Rosso è implacabile Al settantesimo azione da corner, Contè di testa, trova la rete del 3-1 Difesa bicegliese non impeccabile, ospiti che nel finale ci provano Ma l'ottantunesimo di Rito deve arrendersi alla traversa Nonostante uno stacco imperioso, sua azione da calcio d'angolo All'ottantacinquesimo il Biceglie protesta per un presunto falo da rigore in aria del Molfetta Un tocco col braccio di Binetti, tutto regolare per l'arbitro L'ultimo sussulto e nel quinto minuto di recupero Schirone in becca a Ducure che con la nuca manda la sfera a pizzicare la parte alta della traversa Triplice fischio e vittoria per il Borgo Rosso Molfetta che sale a quota 29 punti Nel prossimo turno i ragazzi del tecnico Carlucci saranno di scena in trasferta contro Ortanova Biceglie che incappa nella terza sconfitta stagionale e viene raggiunto al secondo posto dal Corato Sono sei, ora le lunghezze di ritardo sul Manfredonia Prossimo impegno al Ventura contro San Marco Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.